Sì, dunque, ci avete consegnato altre due casse, quindi abbiamo ricevuto 5.000 distintivi in tutto. Ora, in quelli che ci avete mandato prima, il motto era Noi siamo il popolo e siamo è sottolineato, mentre in questi è sottolineato il noi. Quindi si legge noi siamo il popolo. Beh, è naturale che c'è la differenza. Noi siamo il popolo, non è lo stesso di noi siamo il popolo. Senta, non litighiamo. Guardi, semplifichiamo le cose. Noi questi non li paghiamo, noi li buttiamo nel cesso, è chiaro? Sì. Tom, vieni un momento. Che c'è?